Salve! Questa è l'Italia, con i suoi 8.000 km di coste, con il suo record mondiale di siti patrimonio dell'umanità, con le sue tantissime scuole, gli impianti da adeguare, le pareti da colorare e la sicurezza da garantire. Salve! Questa è l'Italia che cambia, verso la qualità, verso il futuro. Una grande opera pubblica per la sicurezza delle scuole. Seguici sul sito italiasicura.governo.it Se sicura l'Italia, l'Italia è più sicura. Grazie a tutti.